Chi può andare? Benissimo, allora do il benvenuto a tutti e a tutti a questa nuova puntata di Zoom In, simposi con l'autore. Oggi presentiamo un volume di Ruggere Eugenie, molto importante per le nostre ricerche, in generale per la comprensione del fenomeno mediale, o meglio post-mediale, il sottotitolo di capitale algoritmico che è uscito da Morcelliana nel 2021 è appunto 5 dispositivi post-mediali più 1. Siamo molto contenti di avere qui con noi Ruggere Eugenie, che è un fiancheggiatore del nostro progetto IRC and Icon, nonché anche un membro del suo comitato scientifico. Grazie Ruggere per aver accettato il nostro invito e lascio subito la parola a Barbara Grespi, che sarà la moderatrice del nostro incontro di oggi. Sì, grazie Andrea e grazie Ruggere. È un grande piacere presentare Ruggere Eugenie per me, collega e amico. Ruggere è professore ordinario all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ma insegna anche a Brescia e insegna una teoria dei media estremamente aggiornata, nella quale confluiscono innanzitutto la semiotica, che è la sua disciplina di origine, non solo però semiotica, ma anche neurofilmologia e archeologia dei media. Quindi attraverso questi tre approcci diversi ma integrati, le sue ricerche hanno seguito sostanzialmente tre filoni, il primo dei quali riguarda la semiotica dell'esperienza, dell'esperienza mediale e post-mediale. In questo ambito ha scritto molti volumi, tra cui la semiotica contemporanea, semiotica dell'immagine, semiotica dei media e anche i volumi di cui parleremo oggi, il volume di cui parleremo oggi. L'altro ambito in cui ha svolto appunto le sue ricerche è invece più orientato a una sorta di approccio archeologico all'esperienza mediale, quindi un lavoro più di archeologia. In questo ambito mi piace segnalare un suo libro molto affascinante, dal titolo La relazione d'incanto, studi su cinema e ipnosi, un volume del 2002, dove appunto ripensa lo sguardo in senso archeologico, recuperando la dimensione, la pratica e anche l'esperienza a sua volta dell'ipnosi. Infine lavora da sempre sulla teoria del cinema e dell'audiovisivo, ha scritto un libro anche di cinema, nel senso stretto, una monografia su Stanley Kubrick ristampata infinite volte e invece nell'ambito più della teoria del cinema ricordo l'antologia curata nel 2017 insieme a Adriano D'Aloia, che si chiama semplicemente Teorie del cinema e altri interventi sulla neurofilmologia. I due volumi che più concentrano le sue attuali ricerche e che sono effettivamente di grande importanza per il nostro gruppo sono la condizione postmediale scritta nel 2015 e capitale algoritmico 5 dispositivi postmediali più 1, di cui adesso lo sentiremo volentieri parlare. Dico anche che Ruggero ha un sito molto interessante perché è molto divertente, oltre che dove possiamo trovare le sue pubblicazioni più recenti e rimanere aggiornati sul suo lavoro di ricerca. RuggeroEugeni.com Grazie Devo parlare io, no? Devi parlare tu, nel senso che adesso ti chiediamo se ti racconto il capitale algoritmico, il format di D-Montag è un po' che tu devi raccontare capitale algoritmico. No, non è Montag, è Zoom-in. Ah, scusi, Zoom-in, sì, sì, certo, perché il Simbison, scusa, ma va bene, ok. Quindi dovresti presentare capitale algoritmico. Sì, ma, dove sei? Innanzitutto grazie, grazie veramente, insomma, per questo invito, che è una, una, per me è una possibilità preziosa di confronto con il vostro gruppo, che sta facendo un lavoro importante su tante tematiche che mi interessano. Capitale algoritmico nasce dalla, diciamo così, da una, da una, da un malessere mio personale, nasce dalla, il malessere riguarda il fatto che, insomma, mi sono accorto a un certo punto che mi stavo occupando di oggetti e di tematiche con un atteggiamento da fighetto, diciamo così, o comunque da studioso, da studioso di tematiche visuali un po' astratto, quando invece tutti questi oggetti e queste tematiche avrebbero richiesto un atteggiamento, diciamo, diciamo più serio, ecco, un po' più maggiorenne, cioè un atteggiamento più consapevole delle ramificazioni politiche, sociali, economiche, che gli oggetti di cui mi stavo occupando implicavano e implicano. Per esempio, studiando la visione, la visione implementata con i visori notturni, se si percorrono coerentemente le radici, le origini, gli sviluppi tecnologici, gli utilizzi contemporanei, ci si accorge immediatamente di come la visione notturna, sì, sia un bellissimo oggetto di studio in astratto, però di fatto concretamente implica alcuni interessi e anche alcuni atteggiamenti di chi usa questo tipo di visione molto precisi, legati al mondo militare, legati al mondo di una conquista visuale della notte, noi conquistiamo la notte, dicevano i militari americani in Iraq, noi abbiamo conquistato la notte, quindi una conquista visiva che però prelude, veicola, una presa di possesso effettiva, un'appropriazione effettiva di mondi, di territori. A partire da qui sono entrato un po' in crisi nel continuare a studiare con strumenti, diciamo puramente di cultura visuale, ma anche con strumenti puramente semiotici, nel senso che la semiotica è nata come una disciplina fortemente critica, quindi con un impegno anche politico, legato attraverso BART alla scuola di Francoforte, quindi ad una scuola critica, però poi ha perso un po' questo atteggiamento. Gli studi culturali hanno poi assunto eventualmente questi spunti critici, però sempre con un fare astratto. Invece a me servivano degli strumenti che mi costringessero a non distogliere lo sguardo rispetto ai fenomeni empirici, ai singoli fenomeni, e strumenti che mi dessero la possibilità di far avanzare una visione critica, insomma una visione più possibile oggettiva senza cedere alle retoriche che si celano dietro questi, si celano molto spesso, scusate, delle retoriche che celano dietro di sé questa rete di interessi politici, militari, geopolitici, naturalmente economici in senso stretto, molto forti. Per esempio, in questo periodo lo accennavo prima, mentre chiacchieravamo, sto studiando questi filtri di realtà aumentata, che si stanno diffondendo velocemente sulle piattaforme social, cosa di cui non ho parlato nel libro, e mi accorgo che c'è una forte retorica improntata alla creatività, non nell'uso, nell'uso ma prima ancora nella creazione di questi filtri, che nasconde tutto un enorme mercato che ci sta dietro, per esempio legato alla promozione della chirurgia estetica e al veicolare, soprattutto i ragazzi e le ragazze, verso interventi anche piccoli di chirurgia estetica, di beautification o anche di whitewashing, nel caso di alcuni algoritmi che lavorano sulle caratteristiche etniche delle fisionomie facciali. Quindi, molte retoriche, di vario tipo, improntate alla creatività, al progresso, alla funzionalità, eccetera, ma anche forti reti di interessi politico-economici che sembrano solo alcuni artisti. Penso, il primo che mi viene in mente è Trevor Paglen, ma ce ne sono molti altri. Solo alcuni artisti sembrano aver colto e portato la luce, mentre invece molto spesso gli studiosi hanno un atteggiamento più distaccato. Allora, a partire da qui ho cercato di trovare, di cercare, ma in realtà è un tentativo che sto ancora facendo, di cercare un ponte tra gli studi di cultura visuale e gli studi di economia politica, complice il fatto che l'economia politica sta avendo, come sapete, un grande ritorno di fiamma all'interno delle humanities, proprio a partire dal dibattito sul capitalismo contemporaneo e proprio a partire dal ruolo che i dati e quindi l'informazione e gli algoritmi che servono a lavorare questi dati possiedono all'interno del capitalismo contemporaneo, che sia chiamato capitalismo digitale, capitalismo algoritmico, capitalismo della sorveglianza, neocapitalismo, insomma, capitalismo cognitivo, diciamo il recupero dell'operaismo, per esempio, dell'operaismo, del filone operaista italiano all'interno degli studi sui media, è un aspetto che mi sembra sintomatico. A partire da questo sforzo ho provato a ragionare allora sulla idea di una economia politica di alcune risorse che di solito non vengono studiate oggi sotto legida dell'economia politica. La più immediata è un'economia politica della luce, un'economia politica delle immagini, un'economia politica dei dati, e ho cercato di capire in che modo queste diverse economie politiche potessero essere gestite in maniera da produrre altri tipi di risorse, in base a dei modelli e a delle strategie che in genere rimangono nascoste, ma che pure sono molto forti e molto operanti. Un concetto chiave che serve, ma questo non lo dico io, che è molto utile, un concetto chiave che è molto utile per capire in che modo viene progettato, ma anche automatizzato, un meccanismo di governamentalità dei flussi di risorse, e il concetto di dispositivo. Concetto di dispositivo che quindi mi è stato molto utile sia per quanto riguarda i dispositivi tecnologici in senso stretto, sia per quanto riguarda le situazioni in cui essi vengono usate, quindi quelle che chiamo con Francesco Casetti gli assemblaggi, e sia per quanto riguarda il quadro dei saperi e dei poteri più ampio e più astratto, che appunto è quello più fucoltiano e che si può chiamare apparato. Quindi quando parlo dei dispositivi postmediali intendo dei dispositivi che servono a produrre, a fruire immagini e che però al tempo stesso sono anche dispositivi governamentali nella gestione strategica di flussi di risorse. Io mi fermerei qui perché poi si può andare avanti in tanti modi, però la spinta prima per scrivere questo libro è nata da questo mio piccolo senso di insufficienza degli strumenti che maneggio normalmente nell'analisi delle immagini e quindi nel tentativo di ampliarli, di variarli, costruendo questo ponte tra visual studies e l'economia politica in senso ampio. Ripeto, adesso perché non puoi seguire a lungo, a distanza. Allora intervengo io per farti una prima domanda e poi aprire alle questioni un po' di tutti. Volevo chiederti di mettere a fuoco un po' i protagonisti di questo volume, che sono le tecnologie in primo luogo, perché appunto il tuo lavoro sul modo in cui le tecnologie danno forma a tanti aspetti dell'esperienza è centrale e anche in particolare per quello che interessa anche a noi particolarmente è la corporeità, il modo in cui queste tecnologie producono dei comportamenti anche sostanziali, di tipo fisico ma non solo. L'altro protagonista è la luce che riscopri meravigliosamente nel volume e la luce l'abbiamo sempre avuta insomma intorno anche nei discorsi sui media, ma in questo modo in cui la metti a fuoco tu è molto importante. A proposito di questo ti chiedevo se puoi un po' darci delle indicazioni di lavoro su quella che può essere ancora l'ottica, cioè il ruolo dell'ottica in queste nuove immagini che sono appunto algoritmiche, come tu le definisci, quindi costruiscono processi di visualizzazione, non sono mimetiche rispetto alla nostra percezione, quindi ecco la luce e l'ottica che sono stati gli elementi della vecchia immagine ora diventano in un nuovo modo gli elementi della nuova immagine. Quindi ecco volevo sentirti un po' sulla questione delle tecnologie in modo in cui le hai affrontate da loro centralità e sull'altro protagonista che forse è invece la luce, questo elemento naturale. Sì, dunque io analizzo nel libro una serie di dispositivi tecnologici a partire dall'idea che l'economia, cioè la gestione regolata di flussi di luce nel momento in cui si combina per un verso con la gestione di flussi di immagini e per l'altro verso con la gestione di flussi di dati, costituisce l'immagine contemporanea, l'immagine algoritmica contemporanea. I dispositivi che analizzo sono, lo dico perché sono i Google Glass, tutti le cosiddette camere plenottiche, cioè quel tipo di macchina fotocinematografica che non si limita a captare il mondo reale, ma lo rielabora in tempo reale in modelli di mondo tridimensionali che possono poi essere visualizzati, la macchina plena, le macchine plenottiche a campi di luce, i visori notturni, tutto il campo della realtà estesa, compresa la realtà virtuale, che è l'aspetto con cui poi dialogo più da vicino col vostro lavoro, e gli algoritmi di intelligenza artificiale. Poi nella parte conclusiva mi occupo anche un po' rapidamente dei microscopi elettronici. Questo esame ha per un verso un aspetto, diciamo, archeologico, in cui ricostruisco un po' una storia di alcuni incontri, di alcuni incroci, di alcune evoluzioni delle economie che ci hanno portato fino a oggi. E in particolare mi soffermo su un primo grande incontro che è quello tra la luce e lo spettro elettromagnetico. Un tipo di incontro che, come sappiamo, avviene nel corso della prima metà dell'Ottocento e che è di un'importanza fondamentale perché nel momento in cui, diciamo, luce, elettricità, il magnetismo, la vecchia passione, si scoprono essere parte di uno stesso gruppo di fenomeni fisici, si apre una nuova, si dischiude un nuovo tipo di relazione tra l'economia della luce e l'economia delle immagini. La luce non è soltanto raffigurata nelle immagini, la luce non serve solo a far, diciamo così, a illuminare dall'esterno le immagini, ma la luce inizia a costituire le immagini. E secondo filone di riflessione che non ho certo inaugurato io, che troviamo in Flusser, troviamo in Kittler, troviamo in molti, diciamo, autori, filosofi dei media moderni. Queste immagini di luce, questi Lichtbilden, sono immagini che vengono radicalmente costituite dalla luce, vuoi nella forma fotocinematografica, vuoi nella forma televisiva. In un, appunto, in una serie di scambi regolati tra forze elettriche, forze magnetiche e fotoni, e quindi flussi di energia luminosa. Questa situazione cambia all'inizio degli anni Sessanta. Io simbolicamente vedo questo cambiamento nell'invenzione del perceptron, del percentrone, perché a questo punto, con l'avvento, con il primo avvento del digitale, del machine learning, eccetera, le cose cambiano di nuovo perché i pattern di fotoni eventualmente, cioè, eventualmente, transmutati e trasdotti, sarebbe il termine, trasdotti in elettroni, vengono ulteriormente trasdotti in dati. E questi dati vengono variamente combinati, manipolati, estratti, e a partire dai data set e poi dai data cubes, si possono, non è necessario, ma è possibile anche costituire delle immagini di output, che sono evidentemente delle immagini in cui il statuto è molto diverso da quello delle immagini, appunto, moderne. La grande opposizione è tra l'apparire e il visualizzare. Quindi l'immagine moderna è un'immagine, appunto, che appare con tutta una serie, poi, di implicazioni che conoscete molto meglio di me. L'immagine contemporanea è un'immagine che visualizza dei modelli di dati. Certamente, diciamo così, io penso che la aniconicità delle immagini contemporanee nasca da questo fenomeno, cioè dal fatto che le immagini non sono più direttamente collegate ad una presa diretta sulla realtà, ma anche quando sembrano catturare direttamente la realtà, in realtà, in effetti, passano attraverso un'elaborazione di dati. E i dati sono per loro natura ambientali, sono per loro natura tridimensionali, e quindi la loro visualizzazione può superare i limiti della cornice e i limiti della distanza rappresentativa. Però c'è un altro fatto importante che dirò fra poco. Però diciamo che questo modello di immagine, che, ripeto, nasce negli anni Sessanta, poi però ha una lunghissima storia evolutiva che arriva a fine nostri giorni, è quella che io chiamo l'immagine algoritmica. Ripeto, un'immagine che serve a visualizzare dei dati e non a far apparire una porzione di realtà. Che poi questa immagine possa essere molto più affidabile di un'immagine fotografica, perché i dati, essendo, come ho detto, tridimensionali molteplici, offrono una visione polidimensionale della realtà, o meglio, anche lì dove c'è una visione bidimensionale, in realtà è frutto di una cattura polidimensionale e del reale, come avviene nel caso degli strumenti di atterraggio degli aerei, anche in condizioni di visibilità ristretta, che usano moltissimi sensori per catturare un'enorme quantità di dati, che vengono poi mostrati in forma, diciamo, in forma tridimensionale, eccetera, ma sono estremamente attendibili, molto più attendibili di una semplice telecamera o di una visione diretta del reale. Il fatto, cioè, che ci sia una maggiore attendibilità non toglie che questa attendibilità deriva esattamente dalla sottrazione dell'immagine, da un regime dell'apparire e una sua rilocazione in un regime del visualizzare. L'aspetto, diciamo, ultimo, secondo me, di questo processo riguarda proprio le cose di cui voi vi occupate, cioè gli aspetti di realtà virtuale, e questo dice anche un pochino, lo dico anche per dire un po' che cosa, separa un po' il tipo di lavoro che faccio dal vostro, il che non è un bene, ovviamente. Dunque, dunque, il proprium della realtà virtuale, cioè quello che davvero distacca la realtà virtuale da altri tipi di immagine, secondo me, non è tanto la, diciamo così, la fine della cornice, anche se la fine della cornice c'entra molto e a me fa molto problema una cosa di cui poi magari, se volete, parliamo. Comunque, allora, non è tanto la fine della cornice, il punto che mi sta a cuore è quello che c'è all'origine della fine della cornice o del superamento della cornice, ed è la 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 ipercattura, la iperestrazione dei gesti, dei movimenti, che Barbara, tema che Barbara, insomma, conosce bene, dei movimenti, dei gesti e delle azioni di chi fruisce l'immagine. Cioè, come dice Geron Lenir, in una citazione che ho ripreso, il cuore della realtà virtuale sono i sensori, ma non i sensori che captano la realtà che viene mostrata, i sensori che captano il momento della esibizione, del display e della visione. Questo a me sembra molto importante perché perché per varie ragioni, anzitutto perché indica che il momento della produzione dell'immagine e della, diciamo così, estrazione del reale e della sua formazione, forma grafica, da un lato, e il momento della contemplazione della rappresentazione in terza persona dall'esterno, questi due momenti vedono una vera e propria conflazione, cioè implodono l'uno nell'altro e questa implosione fa sì che non siano più distinguibili, cioè il momento della estrazione del reale in forma di dati e poi di immagine, il momento della visione dell'immagine sono la stessa cosa, non sono più distinguibili. Questi due momenti erano, posto che questa distinzione era stata al centro di quell'idea di rappresentazione che indubbiamente l'immagine aniconica supera, mette in crisi. Allora, perché non è una distanza, non è una differenza, vedete quanti punti, ma quello che a me interessa è, diciamo così, l'ipersorveglianza che il nuovo tipo di immagine porta con sé, cioè la logica della ipersorveglianza del gesto. Allora, quando tu, Barbara, lavori sul gesto, lavori sempre su un gesto rappresentato, no? Il questo, il tipo di gesto che noi fruiamo all'interno della realtà virtuale non è più un gesto rappresentato, è un gesto visualizzato ed è un gesto che in parte è gesto altrui, ma in parte negli esempi naturalmente di realtà diciamo virtuale, sei gradi di libertà o comunque di realtà, di mixed reality, è un gesto che diciamo parzialmente mi appartiene perché ha una rispondenza nel mio, nella mia senso, nella mia senso motricità, scusami, nella mia propria eccezione, senso motoria, nella mia propria eccezione, però è anche un gesto appunto visualizzato, trasfigurato e quindi il mio rapporto con quella gestualità cambia, è diverso. In ogni caso, e qui concludo, questo particolare tipo di immagine in cui, ripeto, i due momenti della costituzione dell'immagine, la costituzione dell'immagine da un lato e la sua visione, il suo consumo dall'altro, questi due momenti conflagrano, questo tipo d'immagine mi sembra diciamo importante perché? Perché detta al capitalismo contemporaneo la propria legge, che è la legge per cui il valore nasce da un investimento di lavoro che, grazie a dei sensori che lo captano, produce dati e quindi produce immagini potenziali. Questa idea, quindi in altre parole diciamo la mia idea è che studiare questi fenomeni non è residuale rispetto a pensare, a teorizzare il capitalismo, le forme di capitalismo contemporaneo perché in realtà è proprio l'immagine, cioè è questa storia dell'immagine occidentale che ha proposto al capitalismo contemporaneo una logica diciamo di estrazione piuttosto che di produzione che è diventata la sua logica dominante grazie al fatto che i processi economici dei dati dettano legge, possiamo dire in quanto infrastruttura dettano legge o comunque contribuiscono fortemente a determinare tutti gli altri processi economici. Quello che una volta era, diciamo così, quello che nel capitalismo precedente era grosso modo il ruolo della logistica oggi è diventato il ruolo dei dati. Grazie mille per questa esaustiva presentazione. Ci sono degli elementi interessanti su cui ritornerei ma non voglio monopolizzare e volevo chiedere appunto se comincia un po' la... Sì, c'è Andrea che ha una domanda se vi segnate in chat poi vi do la parola e eventualmente poi torniamo su alcune cose. Allora Andrea, prego. Grazie Barbara, grazie, grazie Ruggero. È veramente un libro che tocca talmente tanti temi che intersecano non solo il nostro progetto ma la vita di tutti oggi che è difficile sceglierne alcuni oltre a quelli che sono già stati toccati ma volevo tornare su questa polarità visibile e invisibile e sulla questione della visualizzazione rispetto alla quale i Visual Culture Studies ci hanno abituato a concepire la visualizzazione non come una illustrazione in immagine di qualche cosa che già c'è ma come una messa in immagine che trasforma anche il senso dello stesso oggetto è come quando io vedo un tracciato sonar o un'ecografia la vedo ma è una trasformazione in dati visibili di qualche cosa che all'origine non è visibile e mutatis mutandis anche nella questione della visualizzazione degli algoritmi ci troviamo di fronte ad un processo appunto che porta in immagine qualche cosa che di per sé non è immagine e vive in una sua dimensione di invisibilità ma mi domando non hai la sensazione che in questa polarizzazione tra mondo invisibile e mondo visibile si riaffacci in qualche modo sotto altre spoglie una antinomia un po' alla Kant il noumeno e il fenomeno che quello che è il nucleo vero è l'invisibilità algoritmica e la sua fenomenizzazione è l'immagine ma che questa questo nucleo vero di invisibilità algoritmica in qualche modo sia dato dato appunto data ci pensavo perché in questi giorni stavo leggendo di questo dibattito questo periodo stavo leggendo di questo dibattito che riguarda le digital humanities e in particolare sollevato all'interno della cosiddetta digital art history una una studiosa come Joanna Drucker insiste molto sul fatto che i data non sono affatto data ma sono dei capta dai dice quindi c'è fin dall'inizio un problema di costruzione e non semplicemente di presa d'atto che ci sono dei dati perché altrimenti lì rischieremo di reintrodurre un modello molto positivistico e deterministico ci sono i dati che fanno il grosso come dire e poi c'è la loro visualizzazione la loro fenomenizzazione è un punto da interrogare criticamente anche il modo in cui questi dati vengono costruiti in quanto tali e non semplicemente raccolti come se già ci fossero dopo avrei anche un'altra questione sull'economia della salvezza che mi affascina molto come già avevo avuto modo di dirti per questo sfondo teologico che secondo me rimane tutto da da indagare ancora in fondo i termini stessi che noi usiamo per la nostra per nominare enti o pratiche della nostra cultura digitale icona avatar hanno tutti a che fare con una dimensione teologica molto molto forte una longodure di alcuni problemi che come fai vedere tu nel tuo libro come fa vedere anche il nostro amico e collega Roberto Diodato nelle sue ricerche è uno sfondo molto molto ricco e per molti versi ancora inindagato sì grazie Andrea io sono prima parte sono sono molto d'accordo secondo me mi è spiaciuto non poter partecipare non so chi aveva organizzato l'incontro con la Drucker non so se è da voi perché in effetti mi interessa molto il suo lavoro e soprattutto mi interessa anche da semiologo l'utilizzo del concetto di annunciazione proprio in riferimento a questo tipo di problemi io sono dunque sono certamente d'accordo sono d'accordo nel senso che nel senso che quello che io propongo sostanzialmente è un lavoro diciamo così di ricostruzione dei nodi di responsabilità chiamiamoli nodi di enunciazione chiamiamoli come vogliamo possiamo chiamarli sì possiamo chiamarli nodi enunciazionali anche con la tour insomma comunque insomma gli snodi di responsabilità proprio nei processi diciamo di costituzione delle immagini nodi di responsabilità che vanno da il tipo di sensori che vengono usati evidentemente e i luoghi scusa questa questa lista della spesa però secondo me bisogna i luoghi in cui questi sensori vengono posizionati il il tipo di il tipo il tipo di raw data per quanto come dicono come dice qualcuno raw data è uno simoro quindi il dato non è mai raw non è mai crudo non è mai grizzo ma è sempre appunto prescelto il quindi il tipo di ordinamento previo che viene fatto ma già a livello di sensori ti dico solo per dire quanto è concreta questa cosa a proposito del whitewashing è stato osservato che dei sensori dell'iPhone 13 tendono a sbiancare nelle fotografie le persone di colore ma non applicando dei filtri già nativamente cioè se tu poi vuoi tornare devi applicare degli altri filtri che ti che ti permettano di tornare ad una colorazione più scura quindi l'immediato trattamento delle delle dei dati in entrata e poi tutti i processi che perché lì c'è diciamo così c'è una doppia costruzione ideologica la costruzione del dato e la costruzione dell'algoritmo il dato in quanto dato e non in quanto appunto captato costruito eccetera e l'algoritmo in quanto entità impersonale dotata eventualmente di autodeterminazione ma che è un'altra fizio ideologica bella e buona mano mano fino ad arrivare ai ai momenti ai luoghi alle occasioni di visualizzazione delle immagini che sono evidentemente non casuali anche quando parliamo appunto di una ecologia dei media io sul tema dell'ecologia dei media sono diciamo leggermente polemico nel senso che va benissimo parlarne eccetera però bisogna capire sapere essere consapevole che dietro ogni ecologia c'è una economia quindi ci sono dei nomos ci sono delle regole che a volte tendono proprio grazie alla metafora ecologica a essere nascosti a essere occultati e come diceva Marx per citare uno qualunque ogni economia è politica e quindi nel doppio senso che le economie riguardano i mondi comuni e possono o possono non essere gestiti in maniera comune quindi sono perfettamente d'accordo sul discorso che richiamavi che richiamavi tu sulla visibilità invisibilità e penso bisogna stare abbastanza attenti a non a non ontologizzare questo tipo di fenomeni che sono perché questo implica il non riconoscerne poi gli snodi gli snodi di responsabilità e quindi gli snodi a fine politici sul discorso teologico beh sarebbe un discorso lungo sì sarebbe un discorso lungo però sì dunque non dimentichiamo che questo tema è stato molto scavato soprattutto da Giorgio Agamben che proprio diciamo parlando anche del dispositivo ha ricostruito il dibattito teologico soprattutto il dibattito teologico sulla Trinità che a mio avviso forse Agamben è un po' è un po' ho riletto il capitale e mi è sembrato un po' chiccio come fa dire a Beniamino Placido Moretti comunque diciamo in nella rilettura di questo dibattito ho l'impressione che Agamben in alcuni momenti scelga una uscita un po' facile che è quella della glorificazione cioè la costituzione del potere a partire dalla gestione governamentale dei dell'esistente avverrebbe grazie a delle cerimonie di glorificazione è una tesi nota per cui ci sarebbe appunto una messa in scena della gloria mediante tutta una serie di formule eccetera eccetera e questo è interessante però diciamo così è una metà della secondo me è anche interessante studiare proprio il modo in cui il termine economia ha avuto una storia una storia molto sfaccettata che oggi non ci appare per un effetto per un effetto distorto di prospettiva perché a partire dalla metà dell'ottocento sostanzialmente con l'arrivo dell'econometria tutta la ricchezza del termine anche di tipo scientifico l'economia della natura l'economia del corpo eccetera eccetera si è si è persa cioè non si è persa è stata completamente riassorbita dalle accezioni di mercato e finanziarie e mentre oggi che con un riduzionismo di cui oggi stiamo pagando in maniera estrema le le conseguenze nel senso che non riusciamo più a pensare nessuna battaglia sociale se non in qualche modo legata ad aspetti economici finanziari ma questo insomma è un discorso che ci porterebbe un po' lontano però insomma per dire che il problema teologico non è solo teologico ma è un problema di diciamo così di storia culturale della economia del termine economia grazie 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 allora vedo che Giancarlo Grossi ha una domanda il tuo audio ah sì scusate stiamo un po' giocando con l'audio grazie Ruggero grazie veramente ci sono una serie di aspetti che volevo prendere dal tuo libro legati alla realtà virtuale perché secondo me sarebbero molto fecondi per il relazione ad alcuni dibattiti che ci sono tra di noi all'interno del gruppo e un particolare aspetto che mi ha colpito è quello che riguarda il senso di presenza nel senso che tu ti schiedi chiaramente contro le prospettive che vedono una serie di gradienti di presenza o gradienti di libertà e affermi invece in modo chiaro che invece ci sono diversi modi di presenza che sono anche diversi modi di esistenza e da questo punto di vista l'altro aspetto che volevo sottolineare è quando tu affermi che in un certo senso non è più possibile distinguere tra un sistema osservato e un sistema osservante all'interno diciamo di queste modalità della modalità legata alla realtà virtuale in questo senso mi veniva in mente proprio in delazione a questioni economiche sociali e politiche che una possibilità che non si dà più per l'arte in realtà virtuale è quella del naufragio con spettatore nel senso che se naufraga il mondo immagine naufraga anche lo spettatore all'interno mi chiedevo un po' quali configurazioni politiche questa condizione poteva generare grazie parto da quest'ultima cosa perché un pochino ho già risposto prima cioè quando quando ho sostenuto quando ho sostenuto l'idea che di questa conflagrazione appunto di diciamo così di sistema osservato di sistema osservante questa conflagrazione della captazione del mondo della costituzione dell'immagine e della sua visione e quindi sono io ho cercato di 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 sostenere ma che a mio avviso è fondamentale questo questo aspetto e questo vuol dire che se io cioè l'aspetto che mi sembra più interessante studiare nella realtà virtuale sono i sensori e i sistemi di 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 captazione del corpo dei movimenti delle azioni del del fruitore ehm anche perché sono le stesse sono tecnologie le stesse tecnologie che troviamo eh che ritroviamo nel mio libro in varie cose per esempio le eh non so xbox che usa una telecamera agli infrarossi eh come quelle della visione notturna ehm molti sistemi oggi usano il lidar che è quel sistema di mappatura raggi laser eh che è usato un sacco per esempio è usato dalle dalle sì negli elicotteri militari per facilitare l'atterraggio insieme a tante altre cose è usato anche dal mio Roomba per esempio ho scoperto il lidar quindi è una tecnologia è usato dalle auto per per parcheggiare eccetera e ecco questa questa questo aspetto dei sensori che a noi sembra magari così lontano in realtà ci ritroviamo in me tra i piedi tutti i giorni e costantemente c'è questa ossessione per mappare il momento contingente in cui siamo che ci spinge a fotografarci peraltro usando i sensori dei nostri telefonini eccetera eccetera fa parte fa parte della nostra vita quotidiana però ha anche delle connessioni politiche economiche che non che non sottovaluterei invece sulla questione della presenza che è un punto su cui io continuo a pensare ho avuto una illuminazione leggendo l'ultimo capitolo del libro di Andrea che è quello che è quello sui video umanitari e sul paradosso della diciamo di una rispondenza tra la massima libertà operativa dello spettatore e la massima definizione o previsione orientamento dei suoi comportamenti allora secondo me oggi se bisogna se si dovesse fare una teoria dei modi di presenza bisognerebbe partire da lì e pensare che le esperienze di presenza che noi facciamo ma non solo attraverso la realtà virtuale ma anche attraverso il cinema eccetera sono cioè possono riguardare il possono riguardare diciamo così la consapevolezza tra questo aspetto diciamo chiasmatico tra il nostro operare liberamente e il nostro essere condizionati anche qui sembra una cosa distante però pensate alle polemiche scusate la banalità ma pensate alle polemiche di oggi sul gran premio di ieri non so chi l'ha visto allora quell'ultimo giro ad Abu Dhabi era libero o era condizionato era cioè assistevamo live ad un momento senza vincoli oppure c'era una precisa regia che ha messo la safety car e l'ha tolta all'ultimo giro per effetti drammaturgici quindi è il problema così cioè quanto è quanto è scripted ecco quanto è scripted la realtà che viviamo è un po' il dilemma se volete di Matrix se volete messo messo però forse uno dei parametri che io insomma di solito non se ne parla quando si parla di presenza si pensa ad altre cose si pensa ad altri parametri il grado di realismo l'isolamento rispetto al contesto oppure i gradi di libertà l'interattività anch'io l'ho fatto però forse questo è un'indicazione interessante per ripensare il problema dei modi di presenza grazie mille a te bene vedo che si è prenotata Federica Cavaletti che non sto vedendo bene sì sì ci sono grazie Barbara grazie Ruggero allora io volevo partire con un aneddoto personale che quindi insomma non è interessante però secondo me almeno mi ha fatto pensare allora noi siamo a New York per l'appunto e io qua ho preso parte a un certo punto a una corsa una specie di maratona brevissima per gente poco sportiva ma che vorrebbe essere più sportiva e il giorno dopo c'erano un sacco di fotografi sul percorso e io qualche giorno dopo aver partecipato a questa gara ho ricevuto un'email piena di mie foto che potevo acquistare alcune scattate da fotografi per strada altre scattate da droni suppongo perché erano immagini aeree che mi identificavano all'interno di un gruppo di 200 persone questa cosa mi ha fatto pensare nel senso che io non ricordo di avere firmato una liberatoria esplicita per l'acquisizione e il trattamento delle mie immagini ma evidentemente l'avrò accettato però se l'ho accettato faceva parte dei termini generali per partecipare alla gara quindi è interessante perché esistono tecnologie che consentono di identificare una persona all'interno di un mucchio di altri 200 e l'applicazione di queste tecnologie fa parte del pacchetto di cose che io accetto necessariamente per partecipare a un evento quindi o partecipo a queste condizioni che comprendono questo trattamento della mia immagine oppure non partecipo affatto mi ha fatto un po' impressione pensare che siamo evidentemente giunti a un punto in cui è scontato che si possa fare questo con le immagini di una di una persona e non so mi sembrava solamente che l'anedoto fosse in tema con le cose di cui parlavi e invece il secondo punto che volevo toccare magari ti chiedo invece la tua la tua impressione mi ha interessato quello che dicevi sulla inevitabilità e involontarietà del del filtro schiarente diciamo e mi sembra un punto molto interessante perché ne parlavo anche con i miei studenti dell'accademia quest'anno parlavamo di come sia diventato tutto sommato problematico presentare in modo patente un canone estetico femminile per esempio quindi è più difficile trovare pubblicità che in modo smaccato e patente cerchino di imporre un canone femminile però questo canone femminile o anche maschile non è necessariamente soltanto femminile che non può più essere dichiarato ad alta voce sembra rientrare dalla finestra quando ti si impone nell'immagine di te stesso che viene automaticamente e inevitabilmente modificata di nuovo secondo un canone quindi mi sembra che ci sia questo movimento di implicitazione di segretizzazione di pratiche impositive che non sono più lecite in forma aperta ma che continuano ad esistere in questo modo che è ancora più subdolo tra l'altro non so se è un punto su cui tu hai riflettuto sì grazie sì sì la la certo il bisogna essere vabbè bisogna essere consapevoli che questi bias esistono però bisogna anche essere consapevoli che probabilmente se vengono ideati e promossi è perché piacciono cioè il discorso per cui queste queste il discorso per cui le piattaforme e a limite anche i costruttori di device tecnologici introducono questi usi questi usi diciamo così quotidiani ecco e proprio confusi nel quotidiano delle degli algoritmi per la costruzione di immagini è il fatto che perlomeno loro pensano che cioè qualcuno pensa che possano avere successo ed evidentemente successo cioè successo ce l'hanno perché se guardiamo adesso il fenomeno di questi filtri che sto studiando evidentemente è un fenomeno enorme e la gente li usa li usa li costruisce tra l'altro costruirli è abbastanza semplice si scaricano dei programmi non complessi cioè posso posso farlo anch'io voglio dire c'è un programma per che si chiama Spark per Spark AR forse lo conoscete o forse lo usate per costruire effetti per per Instagram e un altro programma per Snapchat che non mi ricordo come si chiama ma insomma è altrettanto semplice e questo per dire che nella allora quando parliamo di bias no quando parliamo di di bias dobbiamo pensare che ci sono indubbiamente delle appunto delle delle tendenze introdotte da costruttori eccetera però ci sono anche delle tendenze dal basso cioè è un meccanismo molto complesso in cui i filtri di beautification per esempio vengono anche costruiti dal basso in base a certi parametri che si considerano condivisi quindi non 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 si può solo semplicemente non si può semplicemente fare un discorso diciamo top down bisogna anche quando facciamo questi ragionamenti fare un discorso bottom up poi per il discorso sì sul discorso del possesso delle immagini è vero è molto interessante cioè per esempio in Europa non credo che questo sarebbe possibile e adesso sono appassionato di questa azienda che si chiama Clearview AI che conoscete e ha fatto diciamo così tranquillamente è riuscita a fare scrapping uno scrapping selvaggio fino ad accumulare molti miliardi di immagini nel proprio database nei sui social cosa che da noi non sarebbe possibile evidentemente credo infatti anche io mi ero chiesta se questo fosse insomma legato alla diversa legislazione degli Stati Uniti io penso di sì però non posso darti una risposta so che quando faccio un qualunque progetto di ricerca devo dichiarare che il mio trattamento dei dati risponderà ad una serie di logiche di disindividuazione custodia interventi di comitati etici tali per cui mi sembra un po' complicato grazie intanto che vedo che pensano un po' gli anni coners mi lancio in un'altra domanda nel senso che sono molto affascinata dalla questione sensore che ti vede mentre stai agendo ci sono un paio di cose dentro il tuo libro che per noi che stiamo lavorando sul virtuale sull'esperienza del virtuale sono molto importanti una è tutta la classificazione che fai relativamente ai dispositivi astantivi astantivi immersivi questa scala questa molto utile categorizzazione proprio delle diverse appunto di nuovo posizioni dello spettatore rispetto all'immagine che non è più di fronte ma è insomma in vari modulata in diversi modi e l'altra è appunto la faccenda del rivaltamento del prospettico sostanzialmente siamo osservati mentre siamo dentro questi ambienti questa anche per me è la cosa che più mi ha affascinato nel tuo volume che tra l'altro mi ha proprio permesso di collegare ricerche più sul sul tracking e ricerche più sull'immersività in modo preciso per esempio la questione dell'interazione che noi abbiamo dell'interattività che abbiamo lanciato un po' di insomma abbiamo discusso all'interno del gruppo stavo proprio pensando che è forse è inversamente proporzionale alla reale libertà che ha lo spettatore perché più sei tracciato più hai modo diciamo di interagire per esempio un dispositivo come Kinect che mi era capitato di studiare proprio per i gesti perché li riproduce perché non sono rappresentati ma sono i gesti attivi che tu compi e che fai compiere all'immagine ecco in quel caso lì non riuscivo a trovare diciamo un vocabolario adatto per descrivere questa esperienza che è sì un'esperienza di modificazione dell'immagine ma nel contempo è prevista all'interno del dispositivo quindi tutte tutte le modalità con cui la tecnologia ma anche quella analogica ma anche quella meccanica aveva iscritto nella propria forma la posizione il gesto il corpo dello spettatore nella macchina cinema c'è un gesto particolare da sempre ed era anche quello dello spettatore che guardava nel così nel visore quindi questa iscrizione del corpo che però è cambiata radicalmente in un senso di nuovo mi viene a dire ottico allora non so non è che il sensore stante che salta la percezione elabora il dato e visualizza ok perde quella quella perde quella quell'inflessione mentre la dimensione ottica è un po' più quella del sensore che guarda noi in un certo modo producendo delle forme di interattività che sono però già nella macchina insomma già iscritte nella macchina ecco non so non ho vocabolario attraverso cui riesco a ritradurre le vecchie parole dei media appunto interattività nelle nuove parole che dovrebbero essere tener conto del fatto che siamo visti oltre che agenti sì sì ti rispondo a due livelli un livello è più piano un livello invece è più problematico e io stesso non ho le idee chiare parto dal livello piano dal livello piano allora sì come tu dici molto bene nel tuo libro è chiaro che nel è chiaro che il cioè no non è chiaro ma insomma come tu dici nel tuo libro il le tecnologie dell'immagine condizionano i tipi di movimento e di gestualità in realtà condizionano i gesti sotto molti aspetti condizionano il tipo di gesti che si fanno ma anche la loro intensità la loro qualità la loro capacità espressiva e così via sotto questo aspetto se appunto il cinema ha portato a diciamo l'implementazione di 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 alcuni registri gestuali mimico gestuali espressivi o anche pratici invece il tutto tutto l'ambito di questi nuovi media potremmo dire a captazione diretta dei comportamenti dell'osservatore hanno portato o stanno portando a una serie di diciamo così di grammatiche gestuali di nuovo tipo dove conta molto io penso la conta molto la costante percezione di un massimo grado di libertà quindi che emerge soprattutto da meccanismi di contrasto per esempio appunto giocare a tennis nel salotto cioè il salotto implica una grammatica gestuale controllata se ti metti i sensori eccetera e giochi a tennis o ti scalmani o cominci a correre appunto non andando a farti vedere dai droni come Federica ma cominci a correre giocando con con una qualunque console tu hai l'idea di un investimento gestuale anomalo rispetto al contesto ma perfettamente registrato e posto sì che posto sì che diciamo il diciamo l'obiettivo di questi media è che tu agisca il più possibile cioè che lavori tanto che eventualmente ti sposti tanto nel senso che più ti sposti più vieni captato e più dati produci normalmente lo dicevamo prima devono essere dati il più possibile puliti il più possibile utili e quindi anche in questi spostamenti ne vengono incentivati alcuni per esempio i comportamenti di acquisto piuttosto che altri questa è la risposta diciamo più immediata che posso dare e su cui sono abbastanza sicuro poi c'è tutto un ambito in cui sono meno sicuro sono meno sicuro e che riguarda due punti di insicurezza il primo è questo dunque non per far riferimento ancora al libro di Andrea però Andrea nel suo libro definisce molto bene i due movimenti che stanno diciamo così alla base del nostro rapporto antropologico ma con l'immagine in generale cioè l'immagine che esce dalla superficie che la inscrive e il soggetto che entra nella superficie che inscrive l'immagine questi due movimenti il mio primo dubbio è ma forse questi due movimenti traducono un'altra forse più originaria tensione che è quella che io chiamo il il farsi immagine del mondo il farsi mondo dell'immagine cioè l'idea che il mondo possa essere trascritto e quindi e quindi in base al discorso che abbiamo fatto prima selezionato riordinato resettato all'interno dell'immagine e il fatto che poi il fatto che le immagini poi entrino nel mondo imponendo delle presenze discorso che facciamo prima con Giancarlo imponendo delle presenze e quindi e quindi riordinando il mondo dall'interno del mondo stesso eh allora forse queste due tensioni no? Alice e il quadro di quel pittore spagnolo che non mi ricordo mai eh forse queste due tensioni ehm trascrivono eh metaforicamente questa duplice natura dell'immagine punto a capo questo è un mio primo dubbio non sono sicuro che funzioni questo ragionamento secondo dubbio ehm secondo dubbio eh l'immagine moderna cioè diciamo l'immagine post rinascimentale forse eh ha disciplinato questi due movimenti eh in base alla ad una in base alle sue caratteristiche diciamo economico-politiche che sappiamo che l'immagine rinascimentale no? nasce eh nasce in corrispondenza della dell'insorgenza del del prima della prima stagione del capitalismo mercantilistico e e della diciamo così della della di una di una di una prima eh trasmutazione del mondo in insieme di possibili merci l'occhio del quattrocento pieno della francesca e la balla di lana eccetera eccetera eh allora forse il discorso che ho fatto prima si può dire si può esprimere così allora la prima stagione del capitalismo è una stagione che eh si basava sulla distinzione tra la produzione di un prodotto di una e il consumo di quella merce no? e quindi l'immagine e quindi doveva essere distinto cioè il momento della captazione e il momento della restituzione dovevano essere due momenti distinti eh in maniera tale che il momento della eh il momento del consumo potesse essere investito di tutta una serie di valori eh estetici tra virgolette che giustificavano eh un'economia di denaro un'economia di scambio di denaro di commercio che eh faceva muovere sostanzialmente il mondo delle immagini tutto il mondo della committenza eh il mondo anche della della estrazione delle materie prime necessarie per per dipingere che portavano poi ad un valore dell'immagine eccetera eccetera ora tutto questo eh quindi il concetto di rappresentazione che voi aniconisti attaccate è legato ad una stagione economica o politica precisa che si basa appunto su uno split tra momento della costituzione dell'immagine in quanto diciamo così trasformazione del mondo dell'immagine e momento invece di restituzione ehm e mentre invece oggi mentre invece oggi ehm dal momento che la logica del nuovo capitalismo è una logica diversa eh in cui la visione eh non è un momento di di consumo ma è diventato un momento di produzione o perlomeno di estrazione di valore questo giustifica la conflagrazione dei due momenti non mi sono spiegato troppo bene ma insomma sono una serie di riflessioni che sto facendo recentemente perché sono andato a Barcellona a parlare del libro e allora ho ripensato un po' tutto cercando di essere di portare avanti un po' correntemente di spiegare tutta una serie di cose che che non sono riuscito a spiegare forse però ecco per dire per per dirti che al di là della delle risposte più evidenti poi come ogni risposta sotto c'era una serie di di anche di soddisfazioni mie di bisogno di lavorarci anche di lavorare ancora su queste cose grazie nel frattempo ho visto che si è prenotata Anna Caterina qui ciao ciao Ruggero grazie di di tutta questa bella discussione soprattutto di entrare così in dialogo con le nostre preoccupazioni e uno degli aspetti che mi piace molto del tuo libro ma soprattutto uno degli oggetti su cui lavori da un po' di tempo è come l'hai citato poco fa il dispositivo delle camere plenottiche e che nel libro affronti legandolo alla questione della temporalità come una delle diciamo delle questioni ancora meno sviluppate del nostro rapporto con l'immagine allora era un po' su questo punto che mi faceva piacere interrogarti perché mi sembra uno degli spunti diciamo una delle piste che il libro apre che che mi sembra estremamente fecondo sì sì ti ringrazio ti ringrazio ecco sì anche qui come dire ho delle risposte un po' più evidenti e poi ho dei dubbi che continuo a portarmi dietro allora la risposta evidente è che la dimensione temporale è molto molto importante effettivamente nei processi nei processi concreti che abbiamo di cui stiamo parlando l'aspetto temporale è fondamentale è noto che quando si parla di big data o di big data si dice cioè non è sbagliato dire big perché big fa solo parte di della 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 v di volume di volume però c'è anche velocity e value che sono le altre due v fondamentali e la velocity è è un aspetto fondamentale perché i dati di cui ragioniamo non ecco anche rispetto a quello che diceva anche prima Andrea il termine dato è fuorviante anche perché rinvia a qualche cosa di stabile mentre invece mentre invece l'informazione è fatta di flussi in costante cambiamento in costante riorganizzazione e in cui soltanto soltanto diciamo in alcuni punti è possibile individuare dei pattern ricorrenti e quindi estrarre dei dati e prevedere appunto poi la ricorsività temporale di certi comportamenti di certi atteggiamenti quindi l'aspetto cioè il passaggio nelle camere plenottiche avendo permettendo di osservare diciamo così in diretta nella loro evoluzione il passaggio da un'immagine fotografica statica ad un'immagine in movimento e quindi il modo in cui viene captato il tempo dà in maniera molto molto immediata molto ecastica questa l'idea di come la dimensione temporale non sia non sia accessoria rispetto ad una teoria generale dell'immagine algoritmica l'aspetto su cui invece sto riflettendo sto pensando sempre è che come sa Federica con cui abbiamo lavorato il progetto sull'esperienza temporale il indubbiamente diciamo i media i media algoritmici determinano la nostra la nostra esperienza temporale la questione su cui considererei interessante lavorare ma è diciamo quanto questo avviene a causa di elementi linguistici semiotici per esempio con Federica con Adriano Dalloi e altri abbiamo studiato i meccanismi di montaggio nella determinazione dell'esperienza della durata e della velocità anche in termini sperimentali quindi e quanto invece quanto invece nelle esperienze temporali giochino i dispositivi giochino cioè gli stessi dispositivi tecnologici cioè quanto in altre parole i dispositivi tecnologici i dispositivi tecnologici diciamo per un verso costituiscono dei modelli temporali come pensano alcuni media archeologi come Wolfgang Ernst per esempio che parla della televisione e quindi modulano e monumentalizzano potremmo dire il tempo in una maniera specifica e quanto per converso questi dispositivi incidono poi nella nostra nella nostra esperienza temporale la nostra esperienza del tempo che facciamo attraverso di essi cioè quanto conta questo in termini sperimentali non è impossibile ma è un po' valutarlo però non è detto che non ci si possa lavorare ecco grazie grazie a te grazie io volevo fare un po' l'ultima se non ci sono altre domande non le vedo prenotate quanto meno in chat volevo approfittare brutalmente di Ruggero perché io e ci sei tu Roberto? sì non so se c'è tempo prego sì sì c'è tempo per una domanda non approfitterò e mi approfitteremo io e Anna Caterina per una cosa che dobbiamo scrivere in un altro momento intanto la ringrazio davvero molto per l'intervento davvero molto interessante soprattutto urgente e importante anche per il nostro gruppo e a tal proposito le volevo chiedere proprio se lei ha in mente capisco che è una domanda abbastanza complessa e ampia però proprio dei perimetri di resistenza attraverso tali tecnologie tali dispositivi in termini politici nel senso che come lei parlava appunto dei processi di beautification whitewashing che poi si esprimono in diversi tipi di washing anche attraverso ovviamente social networks vari e soprattutto quelli che si basano sull'immagine come Instagram di cui il filtro in particolare è un po' il protagonista e mi chiedevo appunto dato che spesso proprio il filtro è un processo più che più che imposto è piuttosto bottom up anche perché è un mezzo proprio creativo anche io stesso insieme a diversi colleghi come per esempio Sofia abbiamo lavorato proprio con con artiste che utilizzano i filtri anche un po' per in un certo senso hackerare i processi tipici della beautification di Instagram quindi mi chiedevo proprio se lei indicasse in un certo senso dei perimetri di resistenza attraverso l'utilizzo disorientante in un certo senso degli stessi mezzi grazie dunque anzitutto io vi chiederei se vi capitano delle iniziative dei saggi su questa cosa dei filtri se mi mandate se mi mandate insomma delle cose perché mi poi giuro che vi cito ma insomma dal momento che devo ancora lavorarci perché mi piacerebbe mi piacerebbe cogliere delle cose che altrimenti sfuggono ai miei sensori appunto quindi vi sono davvero grato se mi segnalate delle cose che avete scritto voi molto bene come come e sullo specifico quindi grazie in anticipo sullo specifico della della domanda dunque dunque bisogna capire bisogna capire io penso bisogna anzitutto porsi una domanda che è quella che fa che fa Mark Fisher a proposito del capitalismo cioè noi possiamo rinunciare al capitalismo possiamo uscire il capitalismo sta morendo sta finendo io penso di no io penso che anzi siamo ad una fase aurorale di di questa di questa fase di un certo regime economico politico basato basato sulla sui flussi di informazione sui flussi di dati in maniera molto più radicale del del passato è basato sulla capillare rilevazione di dati che ci piaccia o no chiamiamolo sorveglianza però non è sorveglianza cioè non è sorveglianza nel senso diciamo così Foucaultian-Rickeriano ecco non è non è neanche non è neanche di per sé strettamente disciplina e io penso sia molto pericoloso molto pericoloso usare gli strumenti Foucaultian-Rickeriani che sono pensati per un altro tipo di società un altro tipo di regime di regime non nel senso un altro tipo di assetto che sono appunto quelli pre-digitali chiamiamoli come vogliamo riusarli come fanno tanti pensatori anche influenti nell'oggi porta a degli errori di valutazione di prospettiva bisogna costruire nuovi strumenti a partire da qui senz'altro il come senz'altro il io io penso che molti artisti non solo i Tostierle ma tanti artisti siano dei grandi teorici e quindi non solo i Tostierle non solo Trevor Paglen siano siano dei dei teorici interventisti e quindi io sono senz'altro d'accordo che sul fatto che diciamo così una una logica una logica di interventi di interventi d'arte un po' de bordiana ecco se vogliamo un po' sia molto utile per comprendere per far comprendere i fenomeni in atto prima per comprendere poi per far comprendere e certo a volte anche questi interventi artistici sono cioè hanno delle basi un po' semplici quindi però altre volte sono molto forti molto illuminanti questo però questo però attenzione e questo è un punto a cui tengo moltissimo potrebbe far potrebbe legittimare un atteggiamento del teorico e dall'analista che dice vabbè allora il mio lavoro lo fanno gli artisti e io adesso mi metto a commentare le loro le loro opere i loro interventi eh no è troppo comodo cioè secondo me l'analista deve mantenere questa posizione diciamo così non facile di analisi caso per caso e a proposito del fattore tempo momento per momento degli diciamo così eh degli stakeholders implicati nei processi della costituzione o dello svelamento di centri di responsabilità in tutti i diversi passaggi dell'economia eh dell'informazione dei dati eh e eh deve farsi lui stesso responsabile di questa visione non deterministica non ideologica eh ma che per un verso eh fotografi le al di là delle retoriche che vanno da che 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 il ricercatore deve deve di volta in volta superare smontare svelare al di là delle retoriche eh permetta di fotografare per un verso eh l'esistente cioè le reali strategie tattiche in campo eh dobbiamo inventarci gli strumenti eh la 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 actor network analysis va bene eh tanti strumenti vanno bene ecco se se non vuole se non vogliamo parlare di di economia politica in senso stretto va bene tutto basta ripeto darsi questa quest'ottica e per altro verso far diciamo venire fuori un po' da questo lavoro da questo lavoro far venire fuori ehm dei quadri più ampi più consistenti eh che spieghino per esempio perché questo asset l'assetto presente porta a eh dei forti accumuli di risorse eh in alcune zone del pianeta e una depauperazione in altre per esempio eh o anche all'interno di di uno stesso paese eh porti questi questi squilibri nella che non non basta diciamo così pensare poi di appianare di ridistribuire occorre cercare di capire a monte eh perché funziona in questo modo o se può funzionare in un altro modo magari non può funzionare in un altro modo però insomma bisogna arrivarci e indubbiamente io penso però che questo questo modo di lavorare del ricercatore che è un modo molto umile molto eh diciamo così da operaio da manovale ecco questo modo di lavorare però è anche quello che poi è più è più eh fruttuoso per che poi evidentemente non esclude il 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 lavoro degli artisti non esclude il lavoro dei dei tecnici evidentemente degli attivisti eh non esclude il lavoro degli attivisti che è molto importante ma si affianca ad essi con un atteggiamento eh di maggior ehm sorveglianza disciplinata dei fenomeni eh dei fenomeni correnti bene grazie mille Ruggero vedo che c'è Giuseppe Previtali che avrebbe una domanda gli chiedo però di essere brevissimo perché siamo sempre stati strettamente nei tempi buonasera buonasera scusate ciao è una domanda che mi è venuta sentendo la domanda di Roberto e la tua risposta allora ti volevo chiedere visto che in questi questi ultime settimane sono un po' inciampato in i concetti di post-colonial computing di colonial computing critical code studies mi chiedevo se sempre nella prospettiva di quello che chiedeva Roberto una cosa che il teorico dovrebbe fare o dovrebbe imparare a fare per affrontare i fenomeni anche di cui tu parli nel libro non è andare a lavorare a livello del codice con cui gli algoritmi sono scritti e capire questo codice cosa fa cosa non fa o come è possibile scriverlo in modo diverso o seppure no questa era la domanda molto asciugata il più possibile grazie sì ti ringrazio ma dunque diciamo ci sono vari ci sono vari livelli di comprensione dunque diciamo che la risposta è duplice allora per un verso sì può essere utile però tieni conto che molti codici neanche chi li ha scritti riesce più a capirli nel senso che essendo poi passati attraverso molte mani essendosi ricodificati oggi cioè non esiste un programmatore responsabile di 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 per esempio cioè ci sono delle squadre in cui è molto difficile risalire quindi io direi che la questione eventualmente è analizzare le culture certo le culture dei delle comunità che scrivono software il tipo di condizionamenti qui l'ottica di Latour secondo me può essere molto utile questa diciamo questa etno metodologia aggiornata e diciamo così post umanizzata ecco può essere molto utile per per affrontare poi certo più concretamente fa parte sempre della prima risposta conoscere perlomeno diciamo così le logiche mediante cui lavorano i gli algoritmi se non i codici specifici sapere se è stato scelto un algoritmo bayesiano una catena di Markov un Monte Carlo piuttosto che invece una una gofai quindi molto 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 logica una good old fashioned artificial intelligence di tipo puramente logico o che tipo di assemblaggio è stato fatto meglio ancora di questi diversi di queste diverse famiglie di algoritmi questo indubbiamente è utile cioè secondo me deve far parte se uno vuole studiare alcune cose deve capirlo ecco poi magari le ha imparate le ha imparate le ha imparate su Python organizzando tuple piuttosto che che griglie più complesse però sostanzialmente un po' è giusto così come secondo me io penso che si debba essere però un po' ferrati anche sull'hardware cioè perché anche l'hardware è portatore lo ricordava prima anche Barbara mi pare è portatore di una serie di determinazioni di cui occorre essere consapevoli non per fuoriuscirne ma eventualmente per rigiocarle come fanno alcuni artisti che lavorano sull'hardware o comunque per essere consapevoli del tipo di determinazioni che l'hardware può implicare quindi sì codice sì però con questi caveat grazie grazie mille io a questo punto darei la parola al PI ad Andrea per una figura no penso che Andrea sia andato via però perché aveva un impegno no no guarda mi è stato cancellato e quindi si sta rotolando dal dolore suo figlio e lui cinicamente è rimasto ha preferito te vai Andrea ha preferito te ha preferito te grazie grazie Ruggero grazie per questa chiacchierata su capitale algoritmico grazie a Barbara che ha moderato e a coloro che hanno posto domande potremmo andare avanti ancora per molto tempo perché è veramente un libro ricchissimo io vi saluto tutti ne approfitto anche delle feste imminenti per farvi gli auguri e per invitarvi agli zoom in del nuovo anno 2022 per i quali riceverete naturalmente avviso a tempo debito Ruggero grazie ancora per essere stato con noi grazie a voi e buona serata a tutti grazie di cuore a voi buon lavoro mandatemi le segnalazioni non dimenticatevi grazie a tutti 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 grazie a tutti